Ciao! Se sei un vero animale e sei un giocatore di Fortnite potresti supportarmi direttamente sullo shop con supporto al creatore Ti basterà scrivere anima trattino yt e accettare Tutto ricavato lo userò per un progetto legato a Fortnite per tutti voi Quindi shoppate le vostre skin preferite con il mio codice e non ve ne pentirete Buona visione Spara! La squadra dei babbi natali è pronta raga? Ci siete? Buongiorno! Al pronto Perfetto All'arrembaggio Quest'oggi babbo natale non avrà la classica slitta per scendere giù nella landa Ce l'avrà casuale Quindi mi raccomando mettete tutti i casuali deltaplano Vi ricordo che in base al colore del vostro deltaplano potete raccogliere e uccidere solo con le armi di quel determinato colore Però potete usare ovviamente cure e anche le granate Ok Un attimo che ho una chiamata con una renna in corso Eh mi spiace Il deltaplano è casuale non avevamo più bisogno di lei A rivederci al prossimo anno è licenziata In posizione raga La nostra posizione porta fortuna State pronti a giubilare col vostro nuovo deltaplano le armi che congiungeranno alla vittoria di questo Natale? Raga io ho una barca Che cacchia è la barca? Eh è viola No no la barca è quella dei giapponesi Ma il vostro qual è? Io ho il deltaplano base Raga io ho base pure io Base vuol dire bianco? Grigio si E invece che è cans? Viola Ok è viola Ok Abbiamo due viola e due bianchi? Aia Qui c'è una cappa viola Guarda guarda come si avventa Guarda come si avventa Guarda come si avventa Uh si si Dov'è la cappa? Ah l'ho preso io Gliel'ho rubato Mi ha rubato la pistolina Che è successo? Mi si è rubato la mia cappa Ma c'avevi il lancio a missili viola? Si Allora ti scambio se vuoi la cappa Vuoi fare un trade? Ok Allora togiti Stammazzo Stammazzo Beh quindi più o meno ad armi come siamo messi? Ma è meglio se no Pompare Considerando che abbiamo un tattico bianco No raga no C'è il coso delle armi leggendarie Nooo Sono rimaste 44 persone Io direi di andare a lutare altre armi viola da loro Ma perché? Perché questo gralt Ha fatto il grado di disagio Nooo Andiamo a cercare Ma Andiamo Raga Non riesco a prenderla io Nooo Prendi Nooo Ci penso io Chi è il babbo natale infame che ha girato le scale? Ci penso io Non fa culo Vate là dietro Adesso non lo prendo io Aspettatemi Ma Ma stai mai visto un babbo natale con una barca giapponese? Ah oh no è morto GG è andata Ma come andata? Ma perché? Perché tu ti ha sto di pressione? Passano tutti da me Arrivo 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 Con una pistola Acqua ho fatto 100 in testa di cosa bianco Sto felicissimo Io non posso fare nient'altro Io mi posso solo suicidare Ok Ok Ho fatto 50 Ok sono sulla montagna Oh Sì? È su un albero Ma non ho capito avete ucciso? Oh una kappa Sì la kappa Sì la kappa Sì la kappa Da nord Da nord dove? Ecco Nord Vai 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 mettilo Mettilo Arrivo arrivo Eccoci Oh Vai 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 Fui 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 Stamma arrivaan Dietro 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 No Anima d'anima Ma perché non riesco a ritarlo con un colpo? Sto arrivando Qua qua Venite qua Non ho capito ma ci sta qualcuno No Acqua è pazzo Acqua muore Ma Acqua io ho finito tutti i materiali No 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 ragazzi Ma che cazzo Cosa vuol dire sta cosa? Ma riesco a tirare anche No cancer morto No Bobbo Natale no Riesco a tirarla anche su acus No vero In teoria sì No Sì 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 Vai 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 tocca Mi molestami In teoria non ce la fai Tiratina a benda Non ce l'ho Prendile Ma Ok Dagli il grampino La deltaplano challenge Poteva solo che concludersi così Vieni qua Vieni qua Siamo rimasti io e te Armi bianche e arma viola C'erano qua C'erano qua Dove? Qua 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 Ah ok lo vedo Lo vedo Ah È sceso è sceso No eh Dove è l'amico Dove è l'amico Fritz che ti picchiava Oh Dove 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 Ah Nei piedi proprio Una terra Uno dovrà Nima attento Ok Occhio a non entrare Non entrare Che succede? Di fronte Trappo le inimiche Attento Aiuto Ma non si capisce più niente Morto No guarda me Questo è un altro deal Oh madonna Ah È morto Mi hai salvato il culo Sei rimasti 2v2 Vabbè Ma io con 0 kill Ma che schifo Non li vedo Aspetta Aspetta no Madò che pizza Oh Uno vola Da me No no è da me No no è da me No Vabbè Ma che palle Ma posso avere sta sfiga ogni volta Ok sta buildando Ma si è incartato Sta arrivando eh Cioè è ancora lontano Ma sta arrivando 32 51 Vai che è tuo Vai che è tuo Io non lo tocco Oh Nei piedi Nelle ginocchia Le capiglie Non ce le ha più Eh Dov'è questo Questo 51 Eh Questo 51 Nei piedi Voi volete fare tilt Siete sicuri Facciamo tilt Va bene Capiamo Tanto stasera No 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 Ho le armi bianche No No raga io ho qualche malattia Mi è uscito ancora quella normale Quindi abbiamo due armi bianche Una viola e Eh verde No no verde Va bene va bene Va bene va bene È un mix che va bene Eh qui è tutto bianco Ecco bene Ecco bene Mi sarebbe servito adesso il bianco No dai ho trovato viola Madonna Vabbè la tengo Vabbè la tengo perché ve la porto Un famas È bianco Ah quindi abbiamo tre bianchi Un viola Ho un po' male Alla capocchia Oh grande ho trovato una R Sono contento Oh no Oh No Bro tieni Bro 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 Prendi questo prima Ma scusami ma Ma sfigami Perché Come Che vuol dire non lo so Non puoi non sapere come sei morto Mi ha fatto due headshot Eh sa fa pure agua No 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 Ma state ho un cecchino viola Non lo posso usare io Cans lo hit e lo uccidi Dai No Dai concentration raga Già abbiamo perso un babbo natale Cans ce l'abbiamo Cioè siamo tutti con te Tu puoi sparare Con i cecchini Puoi sparare Con i lanciamissili Puoi sparare con delle armi Puoi sparare esatto Con qualcosa Abbiamo dei nerf noi Abbiamo Oh oh Trenta Casa rotta Sono sotto Sono sotto Non l'hai preso Oh io Sale Oh cattivissimi Arriva un altro No da dietro Ok preso uno Buono L'altro Ma c'è altra gente Ah tutti i morti Ok Però ho una spiacevole notizia C'è un'arma leggendaria Non viola qua Aver fatto una kill Con le armi bianche Lo trovo già Insomma Eccola Aku Airlines Che si Presta andare a prendere Il suo jet privato Eh qua davanti Qua davanti Oh no Dove sono Non li vedo Non vedo nessuno No no Perché Via No Ma perché c'erano tutti Cioè io non ci credo No Aia Perché tutti con me No mi sono incastrato Volevo fightare una persona Ne sono arrivate otto Vabbè Eh one hit Ok atterrato uno Atterrato Morti morti Eh c'è l'altro team Dove 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 C'è un del loro C'è un del loro C'è un del loro Che inizia Herita Che inizia Dove c'è andare Ho morto Oh 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 Bobby Natale De tutto il mondo Grazie Oh Oh Aiuto Da me raga No Wait No vabbè No 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 le preghiere Le preghiere Ragazzi sono in tre qua sotto Cazzo è sinistra Sinistra Questo è quello che è ucciso da me Tra l'altro Terra Ok Lo sdrumo Bella Bella Sì Brella Babbo Natale Fortissimo Sì sì No No Ok No Non credo No Non trovo Ma non ho mai visto una roba del genere Bola libero nell'aria Piccolo Bravi E intanto due babbi natali Sono rimasti vivi Attenzione Guarda qui sotto Canter Occhio eh Occhio che ne avrete 800 adesso addosso Occhio Mi hanno sdrumato Bellissimo Ma Raga lo sapete perché siamo rimasti in tre Perché altro non sa guidare Perché ci ha fatto perdere una partita Guidando un aeroplano Quindi sei rimasti in tre No raga no Guardate il mio vi prego No No Leggendaria Questa la partita con il piccone Questa la dobbiamo vincere Quindi abbiamo una leggendaria e voi due Bianco Bianco e Verde Oh mio dio Qui c'è uno scapio No E che ci faccio Un pò viola E che ci faccio Io faccio materiali nel frattempo Così sembra che sono utile a qualcosa Occhio lì Occhio lì Sono il dal centro Non so se lo stanno Sta lanciando la dinamite Pittato due volte Raga arrivo eh Ho le ballerine A terra uno Oh Morto Uno quasi a te Quello sotto è morto? Sì Ok Ah no Ah ok Altri due Ok Eccolo Preso uno preso sotto Ballerine Attacca Ok Quello sopra no Quello sopra no Quello sotto sì Ok Ok vi ho fatto le scale Vi ho fatto le scale Vi ho fatto le scale Vai 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 Io sono un ottimo costruttore Come sale? Morto Grandi raga Nessuno aveva niente vero? No eh Vabbè gonfiero un palloncino solo per Per bellezza Bene Ottimo Raga però Qua vi manca un tocco di classe Per andare in giro Oh Tutti per me Sì Natale È il trio Basta È stato Cognato Craftato adesso Sicuri non c'è un airdrop Da nessuna parte Andiamo contro Airdiversi Vi prego Vai Appena vedete qualcuno Fiondiamoci Spariamogli addosso Io non posso scendere Purtroppo Perché non ho armi Oh Sotto 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 dove? Un palloncino ruzzo Ah Oh l'ho ferito L'ho ferito eh Sì vabbè ma sembriamo veramente Un battaglione Oh un altro hero Venite ragazzi da me a est Dove? Est Sono due Oh si è buttato eh Si è buttato Uno solo L'altro no Vai vai raga No Ma che cazzo Oh l'ho ferito L'ho buttato giù Uno Uno è noccato Ma che cazzo Ma sono un dinamitar Giù sotto 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 Raga qua Bam L'ho ucciso Raga da me Non ho armi 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 Aiutami l'anima E non ho armi per difendermi No 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 L'ho atterrato Oh Oh L'ho atterrato No 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 Ma fa un culo Adesso le armi leggendarie Che si è fatto Ragazzi il mio v Ho salvato Tutto No No Non si riusci a cazzo Non si riusci a cazzo Via Scappa 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 Che mi invece Ah Scappa con il rampino Ok Ramp Vai 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 No È paccato È paccato No No dai No dai sono seri Sì sì No dai veramente No ma no dai che schifo però la vita dai No non ce la faccio Ma a me sono arrivate bombe di tutto Animale animale Questa delta plano challenge di gruppo può concludersi qua Siamo stati comunque una banda di babbi natali abbastanza arrabbiati e ci è piaciuto Ci è piaciuto Le armi sono arrivate quando sono arrivate a caso ma la delta plano challenge è anche così Si vince si perde ci si prova e quindi insomma l'importante è che tutto sia andato in modo divertente Come sempre mi raccomando passate dai canali loro li trovate in descrizione vi potete iscrivervi al centro guardare altri miei due bellissimi video e vabbè in questo video al prossimo video Stay angry Stay involved Ciao Ciao!